buongiorno a tutte buongiorno a tutti eccoci al quinto episodio in questo episodio in particolare ci concentreremo sulle cosiddette tecniche di growth hacking che non devono assolutamente spaventare perché vogliono semplicemente dire una cosa è tempo di scalare cioè come facciamo a crescere e crescere in maniera morbida organica non per forza con dei numeri trascendentali però comunque crescere e vi dimostrerò insomma che ci sono tante tecniche parallele molto diverse diciamo da quelle 100% digital di cui si sente sempre parlare e ve le citavo anche all'inizio quelle che adesso a me danno anche un po' fastidio cioè quegli webinar ad esempio gratuiti dove poi c'è l'offertona imperdibile a migliaia di euro piuttosto che delle mail molto invadenti che ti spingono ad acquistare insomma tutte quelle tecniche lì ormai ne è pieno il web obiettivamente ne parlano tutti e funzionano non è che non funzionino per l'amor del cielo così come funziona l'advertising però sinceramente un po' per coerenza con i nostri valori di fondo perché altrimenti poi saremmo qua a raccontarci cose che non hanno senso un po' per sviluppare anche un ragionamento e un pensiero laterale abbiamo voluto cercare di capire se anche qualche altra tecnica potesse essere interessante e la stiamo testando l'abbiamo testata anche l'anno scorso e adesso ve ne parlo allora sono due le strategie di cui vi voglio parlare se ne sente parlare un po' poco secondo me la prima si chiama ufficio stampa la cosa forse non so le PR più vecchie del mondo ma che hanno un loro senso un loro perché ha maggior ragione quando tutti parlano solo di digital ora posto che le PR comunque di cui vi parlo io sono digital PR in un certo senso quindi è un'evoluzione un 4.0 dell'ufficio stampa non è il vecchio tradizionalissimo ufficio stampa che fa solo la carta stampata assolutamente è un ufficio stampa in particolare con cui mi sono trovata benissimo ma a parte questo il concetto di ufficio stampa secondo me è importante perché deve rispondere a delle esigenze di crescita molto definite cioè è inutile avere dei dei falsi obiettivi cioè degli obiettivi che non sono poi commisurati ai risultati ottenuti e su questo voglio proprio sfatare un mito cioè l'ufficio stampa non è quella strategia che ti permette di crescere nel senso di aumentare immediatamente il numero di clienti non è questo è protezione del brand è reputazione del brand è autorevolezza è inserirsi in nicchie in ambienti che altrimenti ti sarebbero preclusi ok quindi quando si ha piena consapevolezza di questo allora si può consultare e chiamare un ufficio stampa nel giugno 2021 a me viene questa idea qua appunto di cominciare a entrare in segmenti particolari molto specifici che sono quelli appunto dei miei colleghi digital dove sono ero molto poco inserita per cercare di appunto riuscire ad avere spazio nei convegni nelle tavole rotonde nei panel con uno scopo ben preciso vedete che non è quello di aumentare i clienti ma è di far conoscere un modello come quello di flowerista ai miei peer ai miei pari appunto i miei colleghi ambiente dove io non ero assolutamente presente perché non avendo quel tipo di background lì sono sempre stata un outsider no vengo e lo sapete dalla finanza per cui riuscire a entrare diciamo in una maniera quasi accompagnata dalle PR è stato molto più morbido molto più soft rispetto a bussare a tutte le porte parallelamente ovviamente doveva esserci un'attività di PR portata avanti da me perché comunque il personal brand il personal brand non è che te lo possano fare gli altri portata avanti dicevo su linkedin quindi le due cose le ho viste sempre molto andare in parallelo no quindi prima ho dovuto mettere a punto un piano editoriale per linkedin proprio per il mio profilo e contestualmente appunto attivare un quattro mesi intensivi di ufficio stampa con un comunicato al mese su diverse iniziative parallelamente doveva esserci un piano marketing diciamo fitto di iniziative di attività altrimenti non si sarebbe assolutamente motivato giustificato l'investimento che comunque è abbastanza altino per una piccola realtà insomma quindi ecco la strategia la strategia è abbiamo tante attività nell'autunno del 2021 cerchiamo di diffonderle il più possibile con i nostri mezzi al nostro pubblico che già ci conosce quindi con i nostri canali digital ma rafforziamo questa presenza grazie a un ufficio stampa con la speranza perché poi lì nessuno te lo garantisce ovviamente non hai la certezza che i giornalisti apprezzino e riprenderanno il pezzo con la speranza di comparire poi anche sui magazine sui quotidiani eccetera eccetera e lì cos'è successo appunto la speranza si è tradotta poi in realtà le uscite sono state anche tante e in particolare su alcune testate che erano il target erano l'obiettivo al lay-off del sole 24 ore l'inchiesta sky tg24 totalmente a sorpresa un bellissimo inserto sull'economia civile dell'avvenire insomma tante testate dicevo appunto sia cartacee che digitali che poi hanno riportato l'iniziativa a livello nazionale la seconda strategia di cui vi voglio parlare invece riguarda sì più direttamente il growth hacking e quindi la crescita a livello di clienti proprio serviti qui si parla di entrare in community già esistenti ma per farlo bisogna sempre stare in punta di piedi e farlo secondo me con un po di oculatezza con un minimo anche di coerenza appunto valoriale ma anche di rispetto per chi quella community l'ha creata l'ha cresciuta e l'ha creata è logico che è più semplice da un certo punto di vista riuscire ad attirare potenziali clienti che sono già parte di una community e che quindi sono già in un certo senso profilati sono già omogenei al loro interno no piuttosto che pescare a caso con una rete a strascico o nell'oceano e tirare su quel che viene ecco ma per entrare in quelle community bisogna avere una strategia molto ben definita e rispettosa lo sottolineo quindi l'idea qual è preparare un webinar ed è quello sulla innovazione su innovazione praticamente abbiamo dedicato tutta la seconda stagione del podcast quindi abbiamo materiale veramente in abbondanza è un tratto caratteristico credo e lo stiamo dimostrando anche con tante iniziative di flowerista per cui creando questo webinar e portandolo gratuitamente all'interno di alcune community quello che vogliamo fare è riuscire ad attrarle verso di noi verso quello che è un prodotto talmente sui generis talmente diciamo unico nella sua specificità che non esiste sul mercato ed è club nel senso che non andiamo a pestare i piedi a nessuno in primis quindi sia che la community diciamo riguardi gli architetti sia che riguardi i brand manager piuttosto che i commercialisti eccetera noi non vogliamo proporre formazione ok vogliamo semplicemente includere queste persone all'interno di una membership che appunto è F club che dà spazio a tutti quanti da visibilità e da possibilità di networking quindi in primis il webinar gratuito che proponiamo appunto è super partes è di mindset in un senso è di strategi ma non va a ledere gli interessi di nessuno quindi è per questo che parlavo di punta di piedi dall'altra parte poi il quid che andiamo a tentare di vendere è un prodotto anche esso stesso appunto molto particolare molto che ha pochissimi competitor quindi fondamentalmente non è invadente rispetto a diverse community e di conseguenza appunto questo sarà un po' il nostro modus operandi per il futuro insomma terzo filone di crescita è quello di intercettare e quindi introiettare portare dentro professionisti che si portino presso loro stessi già la loro community quindi in quel caso è creare invece formazione insieme con l'ipotesi da tutta da validare che questa formazione poi attirerà nuove persone portate dagli insegnanti stessi devo dire che forse questo terzo sistema non è poi così tanto innovativo ma non lo è neanche l'ufficio stampa se vogliamo forse è più il secondo che merita appunto un approfondimento perché un pochino più particolare però spero di avervi dato qualche spunto ripeto le tecniche sono infinite non escludiamo ovviamente di fare advertising quello è un modo anche per diciamo ottenere costante l'attenzione verso il brand non sparire completamente dai social quindi insomma non è che l'uno vada a inficiare o a cancellare l'altro insomma assolutamente no però cercare appunto con il pensiero laterale di trovare delle tecniche un pochino più particolari un po' meno inflazionate ecco secondo me questa potrebbe essere la sfida che vi lascio qui sul piatto